Bentornati, Piazza Politica anche quest'oggi per trattare argomenti di pubblica utilità. Ritorniamo a parlare di politica, quella comunale, all'interno di Palazzo di Città, un rappresentante dell'opposizione, ma prima di presentarlo la necessità di ricordare a tutti quanti voi Teleappula, la tv del nostro territorio, canale 211, canale definitivo per Puglia e Basilicata e poi il nostro numero telefonico 080 222 0504, questo è il numero telefonico della nostra redazione giornalistica. Per qualsiasi denuncia o segnalazione siamo a vostra completa disposizione, sempre ovviamente a difendere e tutelare i vostri interessi, i vostri diritti. 080 222 0504. Veniamo all'ospite di quest'oggi, graditissimo ospite, è l'Avvocato Ronzo Castellano. Grazie Ronzo per aver accettato l'invito per l'ennesima volta, la possibilità di spiegare agli altamurani, come vanno le cose tra virgolette a Palazzo di Città. Grazie a voi per il gradito invito e per la disponibilità che mostrate anche in maniera concreta a noi di opposizione, un po' a tutti i consiglieri, a coloro che vogliono esprimere il loro pensiero. E' un obbligo morale perché abbiamo soprattutto la necessità di far capire la verità e non molte volte la mistificazione che arriva anche da parte dell'attuale amministrazione, quindi le fonti vere della verità bisogna comunque andare a cercarle e tu sei una fonte vera. Ma io insieme agli amici abbiamo il dovere di onestà intellettuale, non possiamo permetterci perché siamo persone a cui piace approfondire, a cui piace studiare. Poi me lo permetterai, a differenza dei tanti musoni che si presentano dagli assessori ai dirigenti, è sempre bello avere uno che comunque ha una simpatia innata e si presenta comunque sempre sorridente, come dovrebbe essere d'altronde anche l'attività politica amministrativa senza drammatizzare. Esatto, esatto. L'attività amministrativa va fatta con serietà, non con il musone, non con la tristezza sul volto, va fatta semplicemente con serietà e quindi ci può anche scappare qualche sorriso. Ecco, Oronzo, l'argomento del giorno è il giudice di pace. Alessio, insomma, quella della questione giustizia d'Altamura è una vicenda che ormai da qualche anno viene già interessata l'associazione di cui io all'epoca facevo parte come in qualità di consigliere, che ha già combattuto delle battaglie, cioè quella relativa, mi riferisco alla soppressione della sezione di staccata di Altamura, che ha di fatto comportato che molte cause e molti giudizi venissero trasferiti a Bari. Quindi abbiamo manifestato, voglio ricordare con molto affetto e con sorriso anche l'occupazione che noi abbiamo fatto nel Tribunale, perché non dobbiamo dimenticare che la Caterina... Si è dimostrata molto compatta. Sì, sì, sì. L'associazione e anche del resto tutti gli altri appartenenti iscritti all'ordine degli avvocati di questa città. Grande solidarietà e compattenza. Assolutamente, assolutamente. Ci stanno le diversità di approccio alla questione, ma ritengo che quando un problema riguardi tutti quanti, tutti gli iscritti nella categoria e permettimi di dire con l'estrema onestà che contraddistingue il mio operato in genere, il mio lavoro, la mia attività amministrativa, come questo non sia solo un problema legato alla categoria degli avvocati. Assolutamente, è un diritto dei cittadini che bisogna assolutamente tutelare anche per ridurre i costi e poi il fastidio di andare a Bari. Esatto, perché Alessio con quello che è la problematica che voglio augurare sia in fase di definizione, seppur non in maniera definitiva, che poi riguarda l'altro presidio rimasto ad Altamura, perché una volta perso la sezione di staccata è rimasto all'ufficio del giudice di pace, giusto per intenderci, è l'ufficio, la sede giudiziaria che tratta i procedimenti civili e penali, non di minore importanza, ma sono quelli che riguardano la maggior parte, sono quelli più comuni, e devo dire che mi ha fatto molto piacere, lo dico questa volta come semplice, è scritto l'associazione in quanto non rivesto più nessuna carica all'interno del direttivo, come ci sia stata davvero una vicinanza, abbiamo visto anche le varie categorie dei consumatori, così come ho visto presente in alcune riunioni anche le categorie degli ingegneri, proprio per quello che dicevamo prima, perché questo è un servizio della collettività, è un servizio essenziale, pubblico della nostra città, è una città come Altamura, una città di 70 mila abitanti, una città che si vuole prospettare in maniera importante verso il futuro, che si vuole ergere a centro fondamentale dell'area morgiana, non ne può fare assolutamente a meno, su questa cosa io personalmente non transigo, spenderò ogni risorsa, sia da un punto di vista professionale, ma anche da un punto di vista politico, per quello che mi consenterà il mio ruolo di amministratore, per seguirla, per starci dietro, per dare attenzione e priorità, perché è fondamentale, adesso giusto per spiegare i nostri concittadini, eliminare il giudice di pace vuol dire effettivamente rinunciare alla giustizia, perché voglio portare un esempio che ho portato anche in altri siti, oggi se uno ha una contestazione, ha un problema, deve un recupero credito di qualche centinaia di euro, può capitare, perché nella vita commerciale di tutti i giorni, nella vita di tutti i cittadini può capitare, andare a Bari vuol dire di fatto rinunciare a fare l'opposizione alla multa, rinunciare a quel credito, perché tra i costi di quelli che sono i costi di giustizia, i contributi, le marche e quella che poi è l'attività per raggiungere il nostro capoluogo, di fatto sarebbe alquanto antieconomico perseguire, quindi tutelare i propri diritti. Ecco Ronzo, una grande mano è stata data dall'onorevole Liliana Ventricelli, si è interessata a tutti i livelli e anche con il Ministero, poi addirittura anche con un colloquio diretto con gli uffici del Tribunale di Bari, pare che sia ormai quasi in via di soluzione, è quello che è stato detto, è quello che si augurano tutti. È quello che ci auguriamo, devo ringraziare l'onorevole... Però parla anche Ronzo di inadempienze del comune, dell'amministrazione attuale. Sì, perché diciamo che la questione è un attimino complicata, io proverò a fare un po' di chiarezza, a spiegarlo in maniera abbastanza comprensibile. Il nostro giudice di pace è rimasto ad Altamura in seguito alla soppressione a cui facevo riferimento poc'anzi, quando di fatto il governo ha proposto, offerto ai comuni interessati di partecipare, quindi di contribuire alle spese di locali, di personale e quant'altro per mantenere l'ufficio del giudice di pace. Questo l'amministrazione Stacca lo ha fatto, lo ha fatto mettendo a disposizione il personale, mettendo a disposizione le unità necessarie, cosa è avvenuto? È avvenuto che nella vicendarsi un dipendente, manco a farlo apposta, di quelli che avevano un potere di firma, perché per determinati atti, per determinati procedimenti, per quanto loro abbiano anche alcuni in la categoria dei funzionali, devono essere abilitati, abilitati da un corso che ti dà la possibilità di utilizzare delle password. Che è successo? Che con la vicendarsi dell'amministrazione forte, questo dipendente, l'unico che aveva il potere di firma, è stato avvocato alla sede comunale. Questo di fatto ha comportato una paralisi, perché non avendo più il dirigente, anche se non è questo il suo ruolo in senso tecnico, l'attività si è bloccata. Non nascondo una certa perplessità, perché chi deve amministrare deve essere consapevole, deve conoscere quali sono le unità che sono imprescindibili per un ufficio. Al di là, sai Alessio, non sono abituato a fare solo sterili polemiche, perché dico questo per una maniera, siamo tutti quanti consapevoli della carenza del personale, della della gente che va in pensione, del fatto che non si può assumere, ma di fatto la politica che amministra deve fare delle scelze. Se ritiene questo servizio importante, fondamentale, essenziale per la nostra città, lo deve mantenere. Risolvendo tutti i problemi. E non è concepibile che in questo ufficio quella che era l'unità fondamentale che in un certo senso aveva la direzione dell'ufficio è stata dalla sera alla mattina riportata insomma presso la sede comunale, comportando quindi i disagi che abbiamo e stiamo affrontando. Di fatto abbiamo dovuto ovviamente attivare ogni possibile forma per poter risolvere la questione. prima fra tutti cercare di far abilitare il personale che è rimasto e di cui insomma l'importante contributo dato dalla onorevole Liliana Venticelli che da una parte si è diciamo confrontata in maniera serena, continua con la nostra associazione recependo quelle che erano le nostre richieste, per farsi poi portavoce presso le sede istituzionali di Roma per consentire quindi in maniera rapida, perché insomma la burocrazia italiana la conosciamo bene, non è di pronta soluzione, per poter abilitare anche il personale che effettivamente era rimasto all'interno dell'ufficio. Quindi grande merito anche a lei per averci dato questa possibilità, però ad oggi siamo abbastanza fiduciosi, ma è una materia e un servizio che va attenzionato, nel senso che non possiamo permetterci, perché comunque rispetto alla pianta organica precedente, quella prevista dalla vecchia amministrazione, siamo sotto una unità. Ti dico in molta franchezza perché io la penso così, con un po' di sacrificio dei dipendenti, degli avvocati, dei cittadini, so che non posso pretendere la perfezione, sarebbe diciamo a quanto sterile e inutile, però a me interessa che il servizio rimanga, che resti qui ad Altamura. Poi sarà nelle cose, nell'evoluzione, tieni conto che sarà per partire una importante riforma legislativa a livello nazionale, che allarga ancora più di più le competenze, quelle comuni a cui facevamo riferimento più prima. Quindi di fatto molto, l'80% probabilmente dei giudizi che si trovano ad affrontare i cittadini o le imprese altamurane, saranno di fatto riportate integralmente da Altamura. Per questo chiediamo grande attenzione da parte dell'amministrazione, che in parte ha in certo senso compreso quale è il ruolo fondamentale del giudice di pace, ha provveduto anche a distaccare l'unità che aveva. Quindi ci stiamo avviando ad una risoluzione? La stiamo affrontando, già che ci sia la volontà di affrontare e capire qual è l'importanza del giudice di pace, del servizio di giustizia, come presidio di legalità, perché adesso non dobbiamo dimenticare che al di là dell'ufficio dove si sbrigano le vicende personali, l'ufficio del giudice di pace, il tribunale è un presidio di legalità, è un presidio di legalità che ribadisco per una città come Altamura, perché Altamura di fatto è una città, non è più un paese oltre 70 mila abitanti, è essenziale, così come è essenziale e tanti altri servizi che noi abbiamo, in questo caso come amministratore, seguendo, faccio riferimento all'Agenzia delle entrate, faccio riferimento al centro per l'impiego e da questo punto di vista sono e resto intransigente, la nostra amministrazione, il nostro sindaco deve garantire all'obbligo morale, politico, affinché questi servizi rimangano a Altamura, non è concepibile che un altamurano vada per il centro per l'impiego, giusto per intendere e per spiegare ai nostri telespettatori e telespettatrici, quelli dove si rivolgono la maggior parte di coloro che hanno a che fare con la cassa integrazione ordinaria, quindi purtroppo è parecchia gente, io a tal proposito ho anche presentato interpellanza, proprio perché sono un avvocato, ma così come conosco bene le questioni che riguardano la mia categoria e il mio settore, non posso nemmeno tralasciare, su queste cose abbiamo l'attenzione molto attenta, ribadisco la volontà di collaborare anche in senso positivo con l'amministratore, ma bisogna essere ben chiari, questo servizio così come quelli ho citati, così come l'Inps, come l'Inai, nella nostra città devono essere garantiti, non transigo. Ecco Ronzo, queste le carenze che ci portavano e ci portano, io mi auguro che non continueranno a portarci al giudice di pace, ma veniamo alle mancanze, alle carenze che si sono sviluppate o non sviluppate a Palazzo di Città. Beh, un momento non molto positivo, anche se a dire il vero ad un anno di distanza dall'insediamento del Sindaco Forte ci si aspettava molto, molto, molto di più. Forse l'assenza di Di Pietro o la non venuta della De Gironimo avranno complicato la vita e mi sembra anche piuttosto fallimentare per quello che è stato prodotto, per quello che è stato gestito, per quello che è stato girato ai concittadini. E gli ultimi consigli comunali li comprovano completamente. Adesso però non sono d'accordo con te, non sono d'accordo perché io personalmente non mi aspettavo nulla. Beh, io qualcosa sì. Le promesse, quelle sì, sono state fatte, tante, Cava Pontevalli dopo 20 giorni. Io personalmente, come credo, molti concittadini... Quindi eri pessimista già dall'inizio. Io sono un realista adesso, io faccio i conti con la realtà. Se devo, se ho l'ambizione e l'onore di essere un amministratore, devo, così come faccio nel mio lavoro, garantire l'impegno, non il risultato. Perché poi si rischiano cattive figure. Ma mi sembra che neanche ci sia stato un grande impegno. all'interno dell'attività pubblica amministrativa, perché i disagi che ha vissuto e continua a vivere forte, sono fortemente, incredibilmente esagerati. Ma sì, perché diciamo l'azione... Dai mal di pancia ai malumori, alle richieste poi delle destituzioni e sostituzioni degli assessori, ancora temporanei alcuni. Ancora temporanei non si sa, però dobbiamo ricordare con i cittadini che questa cosa qua è avvenuta un anno fa all'inizio del primo Consiglio. Non dimentichiamo, cari concittadini, adesso tu hai sicuramente una memoria storica. Altro che... Non so se è mai successo che un primo Consiglio Comunale... No, assolutamente no, io continuo a dirlo ogni giorno. Mai saltato un Consiglio Comunale... No, il primo! È il primo! Mai saltato un Consiglio Comunale che fosse il primo come inizio di un mandato. Mai, anche perché l'entusiasmo, poi la voglia di uscire, di apparire, di raccontare, di spiegare. Ma questo invece non è accaduto e già lasciava presagire anche un momento bruttissimo. E le motivazioni sono le stesse, anche le stesse per le quali il penultimo Consiglio Comunale poi non è stato effettivamente celebrato. Perché? Perché... La dico come la penso. Al di là di quelle che sono le incariche, Alessio, perché io ritengo che ogni forza politica presente in Consiglio Comunale, presente all'interno della maggioranza, ha il diritto di avere il proprio rappresentante in seno alla Giunta. Deve solo garantire che sia una persona qualificata, che sia una persona competente. E quindi da questo punto di vista, se è fatto con questo spirito, è giusto. Ma io voglio leggere tra le righe, perché come tanti amici, insomma, come alcuni consiglieri di opposizione, abbiamo una convinzione che dall'altra parte c'è qualche bravo ragazzo, c'è qualche persona, insomma, dotata di senno. E la loro polemica non è solo finalizzata, attenzione, allo spartizione, voglio quell'assessorato, dobbiamo togliere. No, ma dare risposta alla città. A un cambio di rotta. A dire, guardate, che l'attività amministrativa, in senso generale, non va come dovrebbe andare. Perché se poi entriamo nello specifico di ciascun settore dell'attività amministrativa del nostro comune, fanno bene ad avere qualche perplessità, perché è la stessa perplessità che posso condividere io, Alessio. Quindi ci ritroviamo a distanza di un anno, nella medesima situazione, in cui oltre a un discorso di assessorati, di carichi, di incarichi da attribuire, ci ritroviamo con qualche consiglier che comunque non condivide l'operato dell'amministrazione. Non condivide come vengono gestiti determinati servizi. Questo sia ben chiaro. Lo dico per rispetto a me stesso e soprattutto verso la fiducia che ripongo verso quei consiglieri. Però ecco, Oronzo, i problemi più gravi non sono stati risolti. Io ecco, è emblematico quello che è stato scritto e diffuso dal numero uno della Fortis Morgia, che ha in modo incredibilmente, e io ritengo anche giustamente bocciato, il piano quadriennale del turismo presentato dall'attuale assessore Mascolo. È stato bocciato, io ritengo, anche con un'attività di diffusione contro proprio l'attività di questa amministrazione, quasi presi per i fondelli i responsabili della Fortis Morgia per le risposte che non sono state date e per i provvedimenti non inglobati all'interno del progetto, quello presentato da Savelio Mascolo. Eppure io ricordo anche durante le sfilate, in prima fila vi erano gli attuali amministratori dal sindaco a Mascolo. È questo che non riesco ad afferrare. Perché questo grado di insoddisfazione? Perché la politica che fa questa amministrazione, che fa questo sindaco, è fatto di sport adesso. Se non l'avevamo capito, abbiamo parlato prima, nella vecchia... E in effetti Gianni Moramarco, l'avvocato Moramarco, fa un passaggio molto sottile proprio sull'apparire di questa amministrazione. E' questo, ne parlavamo prima quando si è parlato di promesse e io in un certo senso ero in disaccordo sul tuo modo di definire qual era l'approccio. Il problema è questo, Alessio, che anche nella partecipazione a Federicus, in quelle poche dichiarazioni che ho potuto vedere, sembrava quasi che il Federicus l'abbia fatto il sindaco. Quando la realtà è sotto gli occhi di tutti, una società, un'associazione, la Fortis, che da anni si impegna con grandi sacrifici, perché Alessio possono dire tutto, possono fare tutte le speculazioni del mondo, ma lo facesse qualcun altro quel lavoraccio. Assolutamente impossibile. E sono titolati, titolati a rappresentare il proprio disagio. Perché? Perché ritengo che quello che deve fare un buon amministratore nell'attività turistica, in quella economica, non sono risposte, è creare le condizioni. Creare le condizioni per una città più vivibile, creare le condizioni perché non si possono assistere a quei fenomeni di degrado a cui noi cittadini purtroppo siamo abituati tutti i giorni. Però quando vengono i turisti, nell'occasione importante festa, non è concepibile. Allora fa bene Gianni Moramarco quando bacchetta l'amministrazione, perché se ti devi soltanto vestire della festa di Federicus, credo che sia fondamentale anche dare delle risposte. Non a caso io ricordo anche la buona volontà dell'associazione che è quella di aprire, addirittura con la disponibilità a una fondazione che vede la partecipazione. E lo dice nel comunicato Gianni Moramarco. Ma su questo perché io conosco Gianni, a parte perché non collega, ho avuto modo di conoscerlo bene, perché ritengo che Gianni, ed è l'emblema di un pensiero che io ritengo vincente, da soli non si va a nessuna parte. Gianni è una persona che insieme ad altri è riuscito a creare un gruppo, un gruppo importante, un gruppo di persone entusiaste. Perché ribadisco il lavoro che fa la Fortis, può piacere, non può piacere, ci sono degli aspetti, ma è un lavoro da ammirare, ma ammirare per il sano entusiasmo con cui viene portato avanti, caro Alessio. E quindi ha ragione, perché se si trova davanti a quelli che sono insomma degli spot, su quello che è il programma sul turismo, su quello che è stato il protocollo d'intesa, sulla cava dei dinosauri, su cui insomma qualche parola probabilmente abbiamo spesso. Sì, sì. Ma cos'è? Io forse non so leggersi, cos'è un protocollo d'intesa con Mattia? Prova a spiegarlo. È quello che ha scritto Gianni Moramarco, chiacchierele, chiacchierele. Non so, forse non sono dotato di così tanta cultura, ma cos'è? Sono i risultati quelli che dovrebbero contare, portare gente ad Altamura, fiumi di turisti, perché la nostra città meriterebbe tanto, però a questo punto io devo anche dire che nelle condizioni in cui versa non è assolutamente accogliente. Non può recepire un messaggio così importante, quello che è stato comunque pubblicizzato dall'attuale assessore che vede poi la scarsa partecipazione anche delle agenzie, dei tour operator, proprio perché la città non è organizzata. È sporca, molto sporca. È tutto quello che sta accadendo nell'ultimo periodo. Lo dimostra ampiamente. Forse il fiore è l'occhiello, per quello che dicono e per quello che spaccia, tra virgolette, il sindaco e la valle dei dinosauri, ma là forse probabilmente verrà fuori la patata più bollente che rischia di scottare, bruciare le mani a qualcuno. Io l'ho sentita. Cava Pontrelli doveva essere aperta, secondo lui, il giorno prima, insomma, della... In 20 giorni. In 20 giorni. Lo disse proprio al mio microfono di fronte a queste telecamere. Si prese l'impegno, disse Alessio entro 20 giorni io aprirò e renderò usufruibile la valle dei dinosauri. È l'impegno primo che io prendo qui a Teleampola. 20 giorni. Questo è stato in un certo senso. Passato un anno stiamo offrendo alla proprietà 770 mila euro, ma non per la valle dei dinosauri, perché la valle dei dinosauri... È già proprietà dello Stato. È già proprietà dello Stato. È già proprietà dello Stato. Stiamo offrendo... Ma ora, non so, lì qualcuno rischia veramente di andare a finire alla Corte dei Conti. Alla Corte dei Conti, per quanto... Rischia veramente di pagare le proprie sfise. Ci sarà un esposto, ci sarà un esposto. Ma come ho detto in Consiglio Comunale, noi abbiamo l'obbligo di rispondere delle nostre azioni. Se chi ha votato quel provvedimento con cui si paga quell'aria 770 mila euro, come sei abituato a dire, se c'è qualche problema probabilmente se ne risponderà. Io non voglio il male di nessuno, non voglio il male di nessuno, però voglio il bene mio, voglio il bene della mia città. Non si può fare in questa storia, perché è una storia che a me non è chiara, ma non è chiara Alessio, anche per come si arriva a questa stima. Cioè, qua, cari concittadini, avviene che Altamura sta acquistando, in un certo senso, se è un esproprio, un esproprio poi convenuto e concordato con la... Ma dei terreni, dei pascoli inconti. Dei pascoli, ma soprattutto, caro Alessio, la cosa che mi fa più specie, che viene quantificato sulla stima fatta da chi non ha nulla a che fare con questa storia. Con un geometra della sovrintendenza che dà 200 mila euro, con un altro del parco che prima ne vuole dare 200 e poi non ne vuole dare più. E come ho avuto modo di dire in Consiglio Comunale? E io pago! Cioè, io devo essere la persona con cui devo convenire il prezzo giusto tra una, diciamo così, una trattativa, una conclusione positiva, perché la conclusione positiva per la Cava Pontrelli ce la ospichiamo tutti quanti, ma io non posso pagare rispetto a quello che mi dice un'altra persona. Cioè, non ci sono dei dati tecnici, non ci sia un ufficio, per esempio, l'Ute, l'ufficio tecnico e la reale, che abbia dato un reale valore. Io non posso fidarmi di quello, ma non perché voglio mettere da parte, a parte il fatto che non mi piacciono neanche le stime come sono state fatte in concreto, ma tra l'altro non vengono da me, vengono da altri soggetti che nulla che hanno a che fare con questa storia. Alla fine la patata bollente è tra il Comune e la proprietà. La sovrintendenza, il parco, tutti coloro che hanno contribuito e che hanno stabilito qual è il prezzo da dare. Non è il Comune di Altamuro. Anche perché sono i cittadini che pagano. E questo forse probabilmente sfugge allo stesso sindaco. Ecco, Oronzo, per andare a chiudere l'appuntamento di quest'oggi di Piazza Politica, vi è un provvedimento approvato o non approvato che ha lasciato più il segno in te, negativamente parlando? Sì, sì, Alessio. Che ti ha dato più fastidio? Ma non è, perché è un provvedimento che è già venuto in consiglio, in passato, è venuto la scorsa volta e probabilmente si ripeterà ancora. C'è quello riguardante l'urbanistica, perché ormai si sta facendo un abuso di quella che è la deroga prevista in caso di rilascio di titolo edilizio mascherata da una probabile, ma io ritengo alquanto improbabile incremento occupazionale del soggetto che chiede il titolo edilizio in deroga. Abbiamo, diciamo, la scorsa volta affrontato questo tema, che tra l'altro è anche una complessità per quanto riguarda l'oggetto specifico, ma su questa cosa saremo molto attenti, noi come consiglieri di opposizione. Perché qua può passare il messaggio, Alessio, perché poi se deve essere, deve essere per tutti, che anche se devo costruire una casa, carico i cittadini, posso richiedere, andare al di là di quella che è la pianificazione ordinaria. Dile che devo mettere due custodi, perché posso mettere due custodi a casa mia, posso pensare di mettere due custodi. Mi devi dare a questo punto un titolo in deroga, mi devi dare più metri, mi fai costruire... Sì, è molto sottile il messaggio, ma diretto a chi comunque... No, 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 sono atti pubblici, sono atti pubblici. Allora, se questo deve essere il light motive di questo approccio, per chi risponde in maniera chiara e onesta rispetto alla tua domanda, lo dico in maniera chiara. Abbiamo lottato, abbiamo esposto in Consiglio Comunale tutte le nostre preplessità sull'abuso dello strumento del titolo in deroga, del rilascio del titolo edilizio in deroga, proprio perché non vi sono le ragioni che giustifino questo titolo, né oggi e né tantomeno adesso, come ho detto prima, a posteriori si potrà controllare se io per la casa che ho costruito poi effettivamente ho messo i due custodi. Quindi questo è un provvedimento, una questione su quale noi avremo la massima attenzione. D'altra parte però devo riconoscere che tutti questi provvedimenti sono passati in Consiglio Comunale e sono stati approvati perché hanno la maggioranza. Sottoscrivo completamente e pienamente quello che hai dichiarato. Allora, la necessità di fermarci qui, immensamente grazie per la consueta disponibilità dell'Avvocato Ronzo Castellano, dell'Udc, Consigliere Comunale dell'Opposizione al Palazzo di Città. Piazza Politica torna domani alla stessa ora. Non mancate! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS